La presenza di un palazzo di giustizia Il gruppo di parlamentari ad ascoltare un processo, ma possono essere anche 250, potrebbero essere anche tutti i 1000, non c'è nulla di strano nella presenza di molti parlamentari a seguire un'udienza, io credo che dovrebbero essere di lieti che i parlamentari si interessino delle sorti processuali.